Specialista di questo ci voleva Cesar che è arrivato subito dopo Allora in omaggio gli facciamo vedere Giorgia, l'Italia Pert Mountain Bike 2004 a Gorizia Cose che bisognerebbero fare molto più spesso anche per valorizzare il castello Sentite il commento Che praticamente qua è venuta una crisi qua Ho detto qua mi vengono tutti addosso naturalmente Ecco qua vediamo Bene andiamo a vedere e lasciamo andare questi ragazzi Cazzo vai a correrti qua Molime sul... dove se lo obelisco Vai 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 Bene Allora lasciamo l'originale, il filmato originale E con le quattro scendono nel Salini Dopo faranno un giro nella torretta lì e andranno giù per questo parco Un po' lasciato perdere ad un'epoca Lasciato lì, c'è tutto da ricettimare che è un fatto veramente molto bello Lasciamo l'originale e godetevi questo... Questo servizio sportivo Visto che l'Italia... l'Italia ha perso Allora godiamoci questo servizio un po' particolare Con gente che corre, che fatica Che non pensano al caldo, né al freddo, né ai problemi Ecco lasciamo l'audio originale Ok Sì 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 Bene devo dire che anch'io ho corso Perché veramente ho corso E dopo sentirete anche un bel volo che ho fatto Non hanno corso soltanto loro Ma anch'io per correre dietro Per fare dei servizi Non stare soltanto in questo posto Ma mi sono dato veramente da fare Qua c'è il parco del castello dietro È un parco veramente molto bello Che si potrebbe valutare proprio in questo modo qua Facendo queste gare ciclistiche, podistiche Tantissime cose si potrebbe fare in questo parco Proprio per valorizzarlo anche Si potrebbe valorizzare Fa tantissime cose molto belle Bene, allora lasciamo l'originale E andiamo avanti intanto Ci sentiamo dopo E andiamo avanti intanto 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 Bene, salutiamo il grande Cesare Bene, salutiamo E andiamo avanti intanto